Test in aeroporto a Bologna per chi rientra dai paesi a rischio contagio da coronavirus. Giovedì dalle 12.45 alle 17.45 il Dipartimento di Sanità Pubblica sperimenterà infatti la somministrazione del tampone al Marconi. Il punto tampone sarà attivato nel presidio sanitario di pronto soccorso nell'area arrivi al piano terra dello scalo bolognese. Quattro operatori saranno a disposizione per effettuare il test durante la giornata di sperimentazione, fa sapere l'Ausl, per eseguire fino a 480 tamponi. L'orario della sperimentazione è stato scelto per testare una forte affluenza dal momento che si prevedono molti arrivi, in particolare dalla Spagna. Il tampone è obbligatorio per chiunque risida a Bologna o nei comuni della città metropolitana esclusa Imola o si fermi a Bologna per più di cinque giorni e sarà prenotabile online sul sito dell'Ausl fino al 19 agosto. Il referto sarà disponibile entro 24-48 ore sul portale referti online dell'azienda Usl. Per quanto riguarda gli operatori sanitari dell'Ausl di Bologna, in alternativa a quanto sopra, possono segnalare il proprio rientro ed eseguire il tampone presso l'unità operativa di medicina del lavoro scrivendo a coronavirus.ausl.bo.it, inviando il modulo disponibile sul sito. Continua intanto l'attività ordinaria di controllo delle persone in arrivo da Croazia, Grecia, Malta e Spagna in via Boldrini, dove da sabato a ieri sono già stati effettuati 672 tamponi. Da oggi l'attività è stata potenziata per arrivare a regime a 720 tamponi giornalieri per rispondere alle tante prenotazioni arrivate in questi primi giorni. Sono infatti 4.200 le prenotazioni raccolte finora, di cui il 36% di persone che arrivano dalla Croazia, il 31% dalla Grecia, il 30% dalla Spagna e il 3% da Malta.